In due seconda giornata e seconda vittoria per la Sieco Ortona davanti al proprio pubblico, tornato all'interno del palasporto dopo quasi otto mesi, seppure in misura ristretta 200 i posti ammessi. Meglio comunque di spalti desolatamente vuoti. Eccezionale la prestazione degli impavidi che in 3-7 hanno avuto la meglio su Mondovì, avversario tutt'altro che da sottovalutare. Allor esordio hanno trascinato la corazzata della BCC Castellana Grotte sino al tie-break. Un dominio quello della Sieco che è stato costante durante tutto l'arco della gara, sfoderando un gioco ai limiti della perfezione in ogni fondamentale. Un 3-0 tondo tondo in una gara nella quale gli avversari hanno avuto poco da raccontare, eccezione fatta per il primo più equilibrato set. Dopodiché è stata solo impavida con i parziali che parlano chiaro 25-20, 25-12 e 25-16 in poco più di un'ora di gioco. Una prestazione cristallina in ogni reparto e soprattutto continua, senza cali di concentrazione che hanno visto la squadra adriatica fare bottino pieno davanti ai propri entusiasti tifosi. Successo corale sicuramente con citazione per lo schiacciatore Felice Sette, autore di 11 punti come Simoni, mentre il top scorer della squadra è stato il solito Cantagalli con 16 punti complessivi.